Bene, eccoci qua con Ivan Basso, siamo appena rientrati a casa da questa settimana in giro per l'Emilia, per la settimana Coppie Bartali, oggi c'è stata l'ultima tappa, un circuito con partenza e arrivo a Forlì. Bene Ivan, bentornato a casa innanzitutto, cosa diciamo di questa corsa? Ci sono tante cose, buonasera a tutti innanzitutto, ci sono tante cose da raccontare, complimenti a chi ha vinto, un'atletta che ha dimostrato avrebbe potuto vincere anche oggi con ogni probabilità, ha vinto il corridore in assoluto più forte e la squadra anche che ha dimostrato di saper sostenere questo giovane olandese che è stato veramente molto 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 bravo. Per quanto riguarda la nostra squadra, io sono molto contento del rendimento della squadra in generale perché avevo chiesto, abbiamo, come ho detto nei giorni scorsi, abbiamo cambiato cinque corridori rispetto alla tirina abriatico che non avevano ancora corso quest'anno, erano la loro prima corsa tappe e devo dire che in ogni tappa hanno lottato e hanno cercato di conquistare traguardi parziali e anche cercato di tenere una buona classifica generale con Ravati. Alcuni di loro venivano da stagioni complicate dove avevano perso la confidenza con la testa del gruppo, con le prime posizioni, quindi avevo chiesto di lottare anche per traguardi e per risultati che possono sembrare al di sotto delle aspettative. Poi per arrivare tra i primi bisogna crescere piano piano, noi sappiamo che una squadra nuova ha bisogno di tempo per mettere tutto in equilibrio e io devo dire che ci sono tante cose positive che ho, diciamo, recepito da questa corsa, altre che vanno migliorate, altre che non dobbiamo ripetere, abbiamo avuto sei cadute in cinque giorni, quindi bisogna prestare più attenzione, cercare di correre in una posizione, come ho detto, più volte più sicura e quindi sarà anche mia premura cercare di capire come mai tante cadute e poi per il resto bisogna prendere il positivo e guardare avanti. Sono molto contento che nei prossimi giorni possiamo riavere nuovamente in gruppo Wackerman, Belletti e Gavazzi che hanno recuperato pienamente dai problemi fisici e da domenica prossima al Grand Prix Indurain saranno di nuovo in corsa. Poi ci aspetta il Giro di Turchia, ci aspettano altre corse di avvicinamento al Giro d'Italia. Quindi con i miei collaboratori siamo molto fiduciosi, sappiamo che stiamo lavorando nel modo giusto, sappiamo dove dobbiamo migliorare e siamo qui per questo. Bene, l'appuntamento con la prima vittoria è ancora rinviato, però sarà una naturale conseguenza di questo percorso che è stato iniziato e non dimentichiamolo pochi mesi fa e che ha ben chiaro dove vuole arrivare. Guardate, oggi sono stati i direttori sportivi molto determinati a chiedere alla squadra di entrare nella fuga del giorno perché è una fuga di sei corridori che, se vi ricordate bene, nella Tirena Adriatico l'ultimo giorno, o meglio, penultimo giorno prima della cronometro, la fuga era andata all'arrivo. E oggi ci è veramente mancato poco perché la fuga del giorno era una fuga veramente ben nutrita, con tutte le squadre più forti davanti, ben rappresentate, quindi ci è veramente mancato poco. E sono molto contento perché la reazione di, ad esempio, proprio per far capire a chi ci ascolta, Fancello ieri non ha avuto una buona giornata, la caduta, un corredore di 21 anni che ancora non ha la solidità di mantenere lo stesso rendimento tutti i giorni, oggi ha avuto una grande reazione. Andare nella fuga di oggi vuol dire che la gamba c'è, vuol dire che la testa è connessa alle gambe e vuol dire che questa fuga gli servirà per crescere. Quindi noi dobbiamo avere anche la pazienza di aspettare, non tutti i giovani arrivano con la stessa velocità, alcuni ci mettono meno, alcuni di più e noi abbiamo il dovere di aspettare anche i loro tempi. Questo non vuol dire perdere del tempo, quindi io sono contento di questa reazione, l'ho visto veramente, ha mollato alla fine, nuovamente, però è stato molto bravo, è stato quasi per tutta la giornata in fuga, nonostante la giornata negativa di ieri. Ravasi è caduto anche oggi, ha mantenuto una buona posizione in classifica, che con pochi secondi poteva essere un piazzamento nei primi dieci, ma sono altrettanto contento perché è tanto tempo che Ravasi non è nelle prime posizioni. Questa corsa gli darà delle sicurezze interne che solo i corridori e solo chi ha corso in dici può capire per le prossime gare che verranno. Quindi analizziamo bene nei prossimi giorni, noi come nostra abitudine faremo nelle prossime ore un aggiornamento con tutte le parti che sono state coinvolte in questa corsa per capire ovviamente su dove bisogna andare a lavorare e ci prepariamo per la prossima corsa. Bene, oggi è già domani, adesso un po' di riposo, ne hanno bisogno i corridori, ma ne ha bisogno tutto lo staff perché è una corsa a tappe di una settimana impegnativa ed è impegnativa per tutti, poi di nuovo in strada. Ne approfittiamo anche per ringraziare ovviamente lo staff perché parliamo sempre di corridori ma come hai potuto anche tu personalmente vivere tutta la settimana, lo staff lavora dalla mattina alla sera e si parla sempre dei corridori perché sono quelli che poi si vede in televisione, si parla quasi sempre solo di loro. Un ringraziamento a tutto lo staff, agli direttori sportivi, insomma a tutte le persone del team che hanno lavorato questa settimana e anche quelli che non hanno lavorato in corsa che lavorano da casa perché siamo quasi 50 persone, quindi chi non ha lavorato in corsa ha lavorato a casa per preparare la prossima, è una squadra che è un meccanismo che deve funzionare alla perfezione e io che sono responsabile devo fare in modo che tutto questo funzioni bene e funzioni sempre meglio. Bene, restate connessi, restate con noi, seguiteci su tutti i nostri canali perché noi andremo avanti a parlarci, parlare e parlare di ciclismo che è la cosa più bella. Buona serata Ivan, buon riposo e buona serata a tutti. Buona serata e buon weekend a tutti.